Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi andrò a spiegare come trovare e raccogliere il duro acciaio nella modalità Lagos Fornite. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrivetevi al canale e campanella in attiva. Allora, il procedimento è molto simile a quello del plastoide, quindi ci dirigiamo nella nostra grotta a tema Star Wars. La mia bellissima jump, così anche il deltaplano è arrivato prima, in teoria. Attualmente c'è un piccolo bug che non fa entrare subito dentro la grotta, ma credo e penso che risolveranno. Allora, quindi ci dirigiamo all'interno. Dopo un po' di tentativi che spammate vi fa entrare. Il procedimento è molto simile a quello del plastoide perché si trova sempre nella stessa caverna, però dovete andare a spaccare delle robe diverse, che adesso vi vado a mostrare. Vediamo se ne trovo una al volo. Eccola lassù. Allora, voi fate una scala, sperando che io abbia del materiale per fare una scala. Ok. E come vedete c'è quella specie di navicella lì. Non so il termine tecnico. Se voi la spaccate... Eccolo qua. Ci ha dato il duracciaio che è utile per creare le armi a tema Star Wars. In teoria vi riconoscete le strutture che vedono di duracciaio perché appunto ci impiega di più come picconate, però non è sempre detto che ve ne dia. Ok, come vedete in questo caso siamo riusciti a trovarle spaccando questa struttura. Vediamo se anche con questa. Oh, ok. Una volta raccolto un po' di duracciaio, vedete che se tornate al vostro banco da creazione, sempre se ci fa uscire dalla grotta, ok, avrete sbloccato molte ricette tra cui le armi. Esclusa la spada laser se non erro. Adesso vi vado a mostrare tutto, quindi ci dirigiamo al nostro villaggio. Ok, non so cosa sia successo, per un attimo il mio personaggio stava volando, va bene. Ok, dirigendoci al villaggio andiamo subito al banco da creazione e dovrei averlo sbloccato un'arma, un detonatore se non sbaglio. E vediamo subito. Quindi, ci dirigiamo qui. Ok, la balestra, il DL44 e il detonatore termico, quindi manca ancora sbloccare la spada laser, che vi spiegherò in un nuovo video. Detto ciò, io spero che questo video vi sia stato utile anche voi per capire come trovare e raccogliere il duracciaio. Mi raccomando, per ulteriori video, video quant'altro, scrivete tutto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video o nella prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao!